eccoci di nuovo qua pagellasse e le facciamo velocemente allora scesni gli ho dato sette e mezzo barra otto nel senso che è stato determinante con due interventi il primo di una re il primo poi di una reattività meravigliosa quindi questo vuol dire che alle volte non è che perché ti chiami buffon che non salvi il risultato alle volte per vincere le partite basta anche un semplice scesni ottima partita del nostro portiere ogni tanto un po di ver politica serve politica ma soprattutto polemica allora quadrado otto e mezzo per me è stato il giocatore in più di questa squadra questo è un giocatore ragazze quale la juventus non può prescindere veramente non è un giocatore eccezionale io amo questo giocatore lo amo perché un giocatore vecchia maniera giocatore che corre si danno all'anima mai una polemica mai una parola fuori posto gioco questi sono i giocatori che mi piacciono sono questi quei giocatori che fanno molti fatti e poche parole non si lasciano trasportare dei momenti del meraviglioso juan ti amo bonucci 6 gli ho visto fare i soliti 2 3 lanci in mezzo a paraterie dove il pallone non è arrivato per il resto ha giocato comunque una partita tranquilla che non mi azzardo a dire ordinaria amministrazione perché mi sembrerebbe di esagerare un po però comunque uno di quei giocatori che se lo metti di fianco a chiellini anche lui mi permetto di dire che rende non di cui il doppio ma poco meno ripeto non è un giocatore cui puoi dare in mano la direzione di una difesa però quando lo metti vicino a un campione come lo è chiellini sicuramente anche lui un pochino si eleva come è normale che sia chiellini gli ho dato 7 a me è piaciuto molto il nostro capitano un giocatore che ancora una volta di più dimostra comunque che quando c'è la difesa è sicuramente più solida speriamo che non si infortuni più e che possa anche aiutare giocatori come de miral e de litte a trovare veramente la loro giusta collocazione perché ripeto ormai chiellini a 35 anni e anche lui è ora che cominci pian piano a pensare al domani ciò non toglie comunque per me partita da 7 e danilo gli ho dato 66 barra 6 e mezzo non mi è piaciuto nei primi due nei primi dieci minuti quando si è fatto un po infilare due volte dai giocatori del napoli soprattutto su quel colpo di testa pericolosissimo di lozano dove scendi ha fatto un miracolo per il resto partita normale più di copertura che di creazione come invece in altre partite successo però il suo sicuramente fatto chiesa gli ho dato 5 ma non per demeriti chiesa non stava bene lo sapevo già prima della partita il mister l'ha voluto provare lo stesso però era in evidente difficoltà anche se io ritengo che un conto è questo ma un conto è mettere chiesa a sinistra io resto dell'idea che chiesa a destra rende di più questa è un'opinione mia personalissima allora arthur sei e mezzo stasera il brasiliano mi è piaciuto mi è piaciuto molto un giocatore al quale bisogna far giocare di più un giocatore che deve prendere più possesso di se stesso gli ho visto fare alcune aperture soprattutto nel secondo tempo quando le squadre si sono un pochino aperte diciamo verso il gioco che mi hanno fatto veramente ricordare tempi di giocatori passati alcune aperture di prima senza trattenere la palla io credo che sia un giocatore sul quale bisogna puntare ma deve giocare di più quindi sicuramente sei e mezzo meritato bentancur sei di sufficienza vista la partita la vittoria in sé però non mi piace ancora non è il rodrigo che conosco io il rodrigo che conosco io il giocatore più incisimo è un giocatore che va più in profondità e che fa meno giochi leziosi stasera gli ho visto fare alcune cose buone ma in alcuni momenti sembrava quasi un pesce fuor d'acqua diciamo rimandato ecco mckenny gli ho dato sei e mezzo giocatore che con quadrado si trova a meraviglia ormai hanno legato come due fratelli e gli riesce tutto benissimo l'ho visto tre o quattro volte ripeto nel secondo tempo soprattutto quando la squadra la juventus ha giocato meglio e il napoli ha un po mollato gli argini gli ho visto fare due tre folate in avanti veramente degne del miglior cabrini per dire così è un giocatore che mi piace sempre di più è un altro di quei giocatori dal quale la juventus non può prescindere colusevski sei di stima meglio nel secondo tempo che nel primo dove nel primo tempo non riusciva a trovare la posizione anche perché trovava le vie tutte chiuse dei giocatori azzurri giocatore che deve crescere deve crescere tanto 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 secondo me ha un potenziale enorme ma non è ancora pronto per per quello che io gli vorrei vedere fare sono convinto che questo ragazzo arriverà ma magari arriverà fra un annetto quando comincerà a prendere più possesso delle sue potenzialità calcistiche e quando entrerà più a regime nel mondo juve ma secondo me è un giocatore che deve crescere come per chiesa forse la destra è più la sua posizione probabilmente perché lui è sempre partito un po da destra però poi o lui o chiesa qualcuno a sinistra ci deve giocare problemi di pirlo ronaldo gli ho dato sei non mi è piaciuto neanche stasera ronny anche se solita abnegazione solito gol quale lui non manca mai e però non è ronaldo bisogna dire la verità non è ronaldo in questo momento cr7 in questo momento 15 cr7 gli è rimasto un po il nome ma del resto ronaldo ci ha abituato a questi periodi un po bui così lui torna in forma quando sente l'odore di champions e sono convinto che a marzo rivedremo cr7 forse anche prima in questo momento è un po appannato se vogliamo dire così quindi il 6 glielo do per il gol perché forse se non avesse fatto gol non so se gli avrei dato la sufficienza e qui ci sono tre giocatori che sono stati determinanti questa partita perché posso dirlo posso dirlo per una volta posso dirlo me lo concedete bernardeschi 6 e mezzo lo merita tutto stasera entrati in campo decisivo tocchi bellissimi anche di prima cioè praticamente perfetto ha sfiorato il gol che soltanto per tre dita non è riuscito a dargli la punta in porta se bernardeschi fosse sempre questo avremmo ritrovato non dico un campione ma un fior un fior di giocatore speriamo che sia l'inizio di una nuova avventura me lo auguro di cuore per lui per il ragazzo ma ovviamente anche per noi sarebbe un bell'acquisto quindi 6 e mezzo meritato e guai a chi di voi si lamenta rabbio è entrato in campo possiamo dire da par su o no perché da par su o no però ho visto un rabbio che anche questo se fosse sempre questo dalla serie il rito demon non parlare troppo che non non vorrei che mi sentisse morata 6 6 più che altro per il gol perché l'impegno non si discute stasera un paio di volte si è un po impappinato col pallone però un giocatore che quando vede la porta ragazzi è un po come cr7 per certi punti di vista ne sbaglia veramente poche quindi complimenti assolutamente amorata giocatore ritrovato del quale abbiamo bisogno e adesso dobbiamo riprendere alcuni giocatori li dobbiamo ritrovare un alexandro uno è the league uno è di bala questi giocatori ci mancano enormemente io sono convinto che se pierlo avesse tutta la squadra a disposizione forse anche lui sbaglierebbe un po meno dobbiamo concedere tempo signori le critiche ci stanno le brutte figure ci stanno io non vorrei che quest'anno veramente dove tutti eravamo preoccupati di non vincere invece anche per quel che può valere ma il primo trofeo l'hai portata a casa vuol dire che anche quest'anno qualcosa si è vinto diamo ancora tempo vediamo come finirà non lo so parlerò non voglio parlare più di tanto perché mi ero espresso che a gennaio avrei dovuto parlare ho detto alcune cose però non lo so perché io ragazzi sarò io sbagliato cosa vuol dire che mi dica io in questo allenatore continuo ad avere fiducia voglio avere fiducia non so spero che la società lo aiuti spero che la società gli dia quello che lui chiede magari un paio di innesti anche a gennaio che sarebbero importanti però io in questo allenatore non so perché c'è qualcosa che mi dà fiducia non so perché sbaglierà sì sbaglierà ancora ma ho fiducia per cui il voto di stasera al nostro mister è sei e mezzo sette sei e mezzo barra sette secondo me ha messo questa volta a discapito di altre volte la formazione giusta ha tenuto in panchina un rabbio e un ramsey che nella partita contro l'inter sono stati due nullità o quasi per mettere in campo un centrocampo più manovriero forse un pizzico meno forte ma più manovriero forte nel senso come forza fisica poi stato assolutamente smentito sul campo perché secondo me il binomio mckenny bentancur artur deve essere il centrocampo nostro tutte le partite e gli altri due in panchina questa è la mia personale opinione ciao